Salve a tutti, io sono Paolo Quadrino, la voce che sentite fuori campo e oggi mi trovo nella classe seconda A, che saluto, ciao ragazzi, dell'Istituto Comprensivo di Palombara Sabina in provincia di Roma e insieme alla professoressa Monica Volpe, che saluto, ciao Monica. Buongiorno a voi. Allora, oggi per la rubrica Il punto della rivista Orizzonte Scuola ho voluto provare e condividere con i nostri lettori l'esperienza che si fa in questa classe di uso delle tecnologie digitali all'interno della didattica. Monica Volpe è docente di lettere ma utilizza questi strumenti da molti anni e vorrei capire un po' da lei come organizza la sua didattica. Molti dicono appunto che sia innovativa, per lei nemmeno troppo perché sono molti anni che se ne occupa, però Monica, ecco, di cosa si tratta in sintesi? Dunque, in sintesi iniziamo la nostra lezione quotidiana partendo sempre dal libro cartaceo. Io svolgo la mia lezione frontale, oggi per esempio abbiamo iniziato proprio da qui, dalla Divina Commedia, stiamo ultimando il nostro lavoro e dopo aver spiegato i passi, dopo aver lavorato sugli esercizi proposti dal volume, si passa all'aumento, come lo chiamo io della lezione e cioè loro lavorano con i dispositivi e hanno la possibilità quindi di interagire diversamente con la disciplina. Quindi possono creare ad esempio lo schema delle cantiche attraverso la tecnologia, possono aumentare il loro lavoro in questo modo. ecco, prendiamo un alunno, ecco, prendiamo il dispositivo di un alunno. Tu come ti chiami? Mattia. Mattia, questo è il lavoro di Mattia. Allora, qui lui è andato a organizzare il paradiso anziché con la solita tecnica della matita, del quaderno, attraverso un'app si chiama Keynote e ha creato da solo, ha preso un foglio vuoto, qui, puoi anche far vedere tu Mattia, ha preso un foglio vuoto e ha iniziato a lavorare. La rielaborazione di quanto fate? La rielaborazione e l'approfondimento. Quindi diciamo la lezione si struttura con una prima parte di tua spiegazione frontale, chiamiamola tradizionale, classica per intenderci. Classica, quindi non c'ho mai, assolutamente. E poi dopo tutti quanti in questa classe, fortunati, ma insomma in tante altre ce ne sono, hanno il loro tablet praticamente, giusto? Dunque, questi sono iPad che l'istituto comprensivo ha acquistato nel 2020 ed ha messo a disposizione delle classi. Noi li utilizziamo spesso, però li possono utilizzare tutte le classi e tutti i docenti che buono. Qual è il tuo nome invece? Matteo. Quindi questo qui lo utilizzate una volta a settimana? Quanto? Due o tre volte a settimana, dipende. Quindi principalmente con la professoressa Volpe e anche con altre? Sì, anche con la professoressa d'inglese. L'altra settimana abbiamo iniziato con la professoressa di arte. Ah, ecco, vedi, infatti sono materie che si prestano. Poi dopo vedremo anche dei lavori fatti per altre materie. E qui avete, vedo, anche un'attrezzatura per ricaricare i computer, giusto? Beh sì, l'istituto ha fornito il touch bus, chiaramente è un attrezzo per ricaricare perché sono tantissimi gli iPad, quindi tantissimi. Sono 26 in tutto, uno è destinato al docente, però ovviamente il lavoro di ricarica, ripristino, aggiornamento che io spesso curo è piuttosto complesso, per cui bisognava avere un mezzo a disposizione. Loro però sono autonomi in questo, cioè prendono ognuno il proprio iPad e sul banco ci si lavora. Tra l'altro tu come ti chiami invece? Viola. Viola? Sì. Scusa, non avevo sentito. Invece Viola tu ne hai due addirittura, mamma mia. Sì, questo è il mio personale, invece questo qui è quello di scuola. Io generalmente lavoro su quello di scuola, però lo trasporto sul mio personale, magari anche posso lavorarci a casa, migliorare la mia presentazione. Ecco, e quindi ecco quella che si chiama la didattica digitale integrata, cioè riuscire a lavorare in classe, a casa, sia con gli strumenti, chiamiamoli tradizionali, perché il libro su carta ha il suo valore, però anche con le nuove tecnologie che permettono, per esempio, di fare che cosa? Permettono di inserire delle immagini per capire anche bene un concetto, perché ecco questo qui è un lavoro su un'azienda locale. Sì, su una mia azienda di famiglia, Silvia Sabina Sapori. Ecco, addirittura va bene. Sì, questo slogan è nato da un'uscita didattica. Sì, ecco, quindi si inserisce in un discorso proprio didattico, è stata fatta un'uscita di questa azienda locale. Stavamo lavorando con geografia sulle economie del mondo e quindi abbiamo fatto un compito di realtà, perché è giusto iniziare anche dalla realtà locale. L'opportunità ci è stata data da questa azienda che lavora sul territorio, siamo andati a visitarla, ci hanno fatto vedere una serie di passaggi di come dalle olive si passi poi all'olio, all'imbottigliamento. Sono passaggi che hanno svolto anche i ragazzi, hanno raccolto in parte anche le olive, le hanno imbottigliate e da questa esperienza ovviamente ne è nato un momento didattico, peraltro interdisciplinare, perché l'abbiamo condiviso anche con altri docenti, con le famiglie, che immagino i ragazzi non dimenticheranno. Beh, stiamo già vedendo come il lavoro è appunto interdisciplinare, ci sono compiti in realtà, c'è il digitale che si unisce alla didattica più tradizionale, ci sono metodologie che si intrecciano. Sì. Aspetta, aspetta, vai. Allora, praticamente quando noi abbiamo le ultime ore con la nostra professoressa Volpe, praticamente per motivarci, se è una materia difficile, un argomento difficile, per motivarci, se lo facciamo un pochino bene, ci dice la potenza, la superpotenza, poi la super superpotenza per motivarci e ci divertiamo pure a fare gli esercizi, per esempio l'analisi logica. Di che cosa? Tipo? Del complemento predicativo del soggetto e oggetto. Mamma mia, mamma mia. E quindi ecco, vi motiva dicendovi questo? Ci divertivo pure quando si dice la potenza e ci chiamo alla lavagna e siamo più motivati. E ringraziamo il lavoro a favore. Ok, benissimo, dai, dai, va bene, va bene. Monica, però qui sulla parete della classe vedo questi cartelli in cui ci sono alcune parole, l'etimologia di alcune parole, poesia, fantasia, desiderio, ed è un modo appunto di mettere su carta e quindi in maniera analogica un lavoro fatto. Ecco, da dove siete partiti e come nasce? Allora, noi siamo partiti da questo testo di Andrea Marco Longo che è un testo molto bello, è illustrato, quindi era adatto per i ragazzi e poi con lo studio delle etimologie in maniera anche semplificata, i ragazzi hanno creato, hanno rielaborato questo prodotto cartaceo e digitale. Allora, vediamo anche in digitale, quindi cartaceo quello è il prodotto anche finale, ma c'è anche un lavoro in digitale. Dunque, te sei? Luna. Qui abbiamo, diciamo, messo insieme tutte le etimologie che ognuno della classe ha fatto e qui ognuno ha, diciamo, cercato l'etimologia di ogni parola e poi l'ha anche illustrata. Ecco, per esempio prendiamo una... Per esempio prendo quella che ho fatto io, questa qui, amore. Amore. Nel senso che ti trasporta, no? Quella fantasia, magari. Ecco, molto bello, molto bello anche questo. Quindi siete partiti però da questo libro, tu sei? Alessio. Alessio, quindi da qui. Abbiamo preso tutte le etimologie di questo libro, ognuno ne ha fatta una e poi l'abbiamo trasportata in digitale. E sono trasportata o ci avete anche un po' studiato, lavorato sopra, elaborato un pochettino? Sì, l'abbiamo anche un po' studiata, però ho fatto qualcuna da studiare e l'abbiamo studiata. Ecco, per esempio nostalgia. Nostalgia. Ecco. E le immagini pure... Poi abbiamo cercato delle informazioni su internet e le abbiamo ricavate. No, le immagini non le stesse. No, le immagini non le stesse, le abbiamo fatte noi con le forme. Perfetto, molto bene. Ottimo. Monica, dicevamo dunque che la tua lezione parte e inizia, diciamo, nel suo svolgimento in maniera tradizionale, analogica direi, perché qui vedo che non c'è una lim. Assolutamente. Io questa lavagna con il pennarello indelebile scrivo, la mattina inizio a scrivere qualcosa, qualche indicazione e poi parto con la spiegazione. Secondo me la parte dell'insegnante che spiega frontalmente ai ragazzi un determinato argomento è ineliminabile, cioè la voce dell'insegnante, l'empatia che si va a stabilire attraverso la lezione frontale non può essere sostituita da nulla, quindi è fondamentale, si parte sempre da lì. Poi la tecnologia ci aiuta, ma come nella vita reale. Esatto, è uno strumento a disposizione degli studenti per poter poi dopo lavorare e rielaborare quanto state facendo. Te invece ti chiami? Edoardo. Ecco, state lavorando, ecco qui vedo per esempio c'è una parte, no inferno e purgatorio, giusto? E siete riusciti a fare qualche cosa su questo? Eh sì. A voce alta così, un po' se riesci a dirlo un po' proprio. Un lavoro su un nuovo inferno, un purgatorio, un paradiso a nostra scelta dovevamo riprodurlo su iPad, inserendo una piccola parte del testo. Perfetto, ma il testo l'hai scritto te? L'ho preso dal libro e l'ho ricopiato. Ecco, e qui invece avete poi dopo, sei riuscito a fare diciamo questo lavoro cercando di rielaborare quanto hai studiato. Esatto. Senti, ti è servita questa cosa? Cioè pensi che l'hai imparata un po' di più o meglio? Non lo so. Sì, alla fine è un modo migliore e diverso di riuscire a incamerare delle informazioni. Giusto, bene, bene, bene. Questo è l'importante perché diventare appunto, come dicevamo prima, uno strumento per imparare, per conoscere, per migliorarsi. Questo poi dopo potrà essere applicato a chissà quante cose che studierai in futuro. Però Monica, ci sono anche dei lavori, per esempio, sulle favole che avete fatto, giusto? Tu insegni lettere. Sì, certo. Partendo sempre dal nostro libro di testo, ecco, l'antologia. Noi abbiamo lavorato addirittura lo scorso anno, sì, sulla fiaba, sulle favole e quindi abbiamo iniziato a leggere i nostri testi, abbiamo sviluppato gli esercizi così come chiede il libro di testo, poi andiamo sempre ad aumentare un pochino anche la partecipazione dell'alunno. Quindi è una classe aumentata, si potrebbe dire, però anche tu. Sì, diciamo così. È uno studio aumentato, dai, no, no, è uno studio aumentato che porta magari a fare dei lavori. Loro devono essere protagonisti della didattica, cioè non devono soltanto ascoltare me che spiego, devono anche sentirsi parte della spiegazione e del processo di apprendimento. Ecco, qui invece siamo con? Flaminia. Flaminia, qui vedo per esempio Cenerentola. Sì. E però vedo anche, oddio, ma sei te? Sì, sono io, la prof ci ha fatto una foto che avevamo dietro il green screen e poi digitalmente ha inserito una foto. Poi ci ha mandato questa foto e noi abbiamo rielaborato un po' la storia facendo un riassunto. Quindi praticamente quella foto lì è un'elaborazione che avete fatto, rispiegami un po' come, che non ho capito. Abbiamo fatto una foto sul green screen. Ah, ecco, quindi avete il green screen. Sì. Quello, non tutti sanno credo cosa sia, dicci un po' che cosa è. È uno sfondo verde che ci permette di inserire il nostro corpo in un'immagine che abbiamo preso da internet. Ah, ecco, quindi un panno verde proprio, giusto? Che costa pochi euro, si può acquistare e attraverso quello si fa una foto e poi può essere ricomposta e rielaborata su un'altra. Questa qui era la foto di Cenerentro la più classica, diciamo, giusto? Sì. E quindi te ti ritrovi, diciamo, nella favola, giusto? Sì, abbastanza. Ecco, andiamo avanti e vediamo un po' che cos'è. E qui invece poi dopo il lavoro è stato fatto sul testo, quindi c'è un'introduzione. Il testo di Cenerentro l'ha rielaborato e abbiamo fatto un mini riassunto. Ecco, quindi c'è anche questa attività, no? Sì. Da dover fare che ti aiuta, quindi il lavoro sulla favola, lavoro di immagine e lavoro digitale nel quale hai dovuto riassumere quello che avevi fatto. Ok, benissimo. C'era qualcun altro di questa? Sì, ne vedo qua un altro. Sì, è questo. Sempre tuo. Io ho fatto di Answer and Grader, sempre con il green screen. Sì. Ho scelto questa immagine da internet e mi sono inserita all'interno della storia. Ecco qui. Però l'ho revisionata da me. Quindi mi sono aggiunta, ho cambiato alcuni pezzi della storia. Quindi ci sono nuovi personaggi forse. Sì. Infine ho fatto anche, ho messo, le ho create io queste forme. Sì. E ho creato come un fumetto. Ah, molto bello. E beh, qui hai rielaborato addirittura dal punto di vista quasi letterario inserendo un nuovo genere. Sì, perché il libro di testo ci chiedeva una rielaborazione personale della favola. Quindi partendo dal presupposto che tutti i ragazzi fanno tutti insieme questo lavoro, cioè insieme. Ecco, quindi ciascuno lo fa. Ciascuno, sì, certo. Non è un lavoro solo di viola o di flaminia. È un compito che loro svolgono a casa rielaborando il testo. Poi quando vengono a scuola lo lavorano attraverso lo strumento digitale in maniera che sia un lavoro paritario anche. Quindi abbiamo diverse immagini che poi sono state rielaborate. E anche la sua è molto carina. Lui ha lavorato sulla favola di Pinocchio. Pinocchio. E poi ha voluto fare una foto un po' spiritosa. Ecco, questo è lui, sul naso di Pinocchio. E questa qui l'hai fatto te? Sì, con il Griskin. Aspetta, tu ti chiami? Riccardo. Riccardo, quindi l'hai fatto sempre te con il Griskin? Sì. E quindi ti sei posizionato sul... Sopra un banco era. Ah, ecco, lì stavi sul banco e poi è stata rielaborata e... È bella, è bellissima. Oppure aspetta, vediamo un pochettino la spada nella roccia. È questa fiappa, sì, la spada nella roccia. Quindi lavoro sulla fiappa, ma poi personalizzazione, rielaborazione. Del testo, prima di tutto. Quindi prima sul testo si lavora. Esatto, sì, sì, sì. Prima si fa sul serio e poi... Ma anche questo è il lavoro sul serio. Lavorare sulle immagini, sulla creatività, che è molto stimolante, che è la molla per andare avanti. E i ragazzi, ecco, lui ha immaginato di essere, diciamo, l'aiutante, no? Una delle funzioni di prof. L'aiutante che spira la spada, cerca di spilare la spada. Oddio, no... E un po' tutti hanno sul loro device questa storia rielaborata, la storia rielaborata con una immagine personalizzata, proprio perché si sentono protagonisti, no? Di quello che si fa. Senti, ti è piaciuto? Come ti chiami? Rocco. Rocco, ti è piaciuto fare questo lavoro? Sì, tanto. E quindi la favola pure innanzitutto ti piaceva, giusto? Ma tu l'hai visto anche il cartone animato? Sì, abbiamo scelto la nostra fiaba preferita. Ecco, e quindi questa era una delle tue preferite. Complimenti, bene. Allora, dal punto di vista però didattico, Monica, so che hai fatto dei lavori forse anche con altri docenti, giusto? Sì, sì. Hai fatto la classe, insomma, in generale? Si cerca di lavorare in maniera interdisciplinare con il docente di educazione artistica, con il docente di... che altro ragazzi? Il titolo è inglese. Ah, inglese, certo. Ciò vuole vedere qualcosa? Allora, aspetta che arrivo. Allora, tu sei? Margherita. Margherita, che cosa hai fatto? L'abbiamo fatto l'anno scorso, quindi in prima addirittura, con la professoressa l'inglese. Ecco, vedi, quindi il lavoro anche interdisciplinare. Sì. E questo qui su che cosa è questo lavoro? È su una, praticamente una... la prof l'ha intitolato My Digital Time Capsule perché voleva farci fare una capsula personale, quindi dove mettevamo il lavoro che abbiamo voluto fare da grandi, una foto fatta sul momento, il nostro colore, l'animale, il cibo preferito, una capsula proprio personale. E' quello che stiamo vivendo in questo periodo. E qui c'è il problema del Green Pass con il Covid. E la guerra. Ecco, è anche la guerra, ho capito. Quindi questo qui è l'aura interdisciplinare, oppure, mi sembrava prima di aver visto, anche lavori di didattica vera e propria, qui usiamo paroloni, però addirittura delle linee del tempo. Tu come ti chiami? Gabriel. Gabriel, che cosa è questo lavoro invece? Scusami, però volevo dire soltanto che questi disegni che stiamo vedendo bellissimi li hai fatti proprio te. Cioè non sono presi dal computer, giusto? Ma fatti con il computer. Mi sbaglio? Fatti proprio, fai vedere Gabriel, lui ha usato il touch, cioè il suo dito ha tracciato questi disegni, questa grafica, è sua. Ecco Gabriel, ma quindi questa qui che cosa è? Una linea del tempo su che cosa? È una linea del tempo sulla storia, dove i rami crescono insieme alla storia. E l'Aquila passa sopra per vedere cosa succede. Guarda, complimenti perché è un lavoro molto bello, molto ben fatto, ma che dietro ha proprio un, come dire, un'espressività tutta sua. Giusto, Monica? Sì, molto personale. Senti Gabriel, puoi farci vedere come hai fatto, perché è difficile capire da un video. Cioè, mi fa vedere un attimo. Cioè, prima prima si diceva... Provi a fare un'altra foglia, ecco. Andiamo un attimo. Eh, andiamo in modifica. Sono andato in modifica. Sì. Ho preso più e ho preso la modalità disegno. Ecco, aspetta, 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 così la vediamo. E si apre l'astuccio digitale. Del disegno, eh, l'astuccio. E aggiungendo una foglia ho fatto un disegno. Per favore di unirsi al ramo. Ah, ecco, in questa maniera. Perfetto. Ah, ecco, per questo si... Dopo si crea, diciamo, l'albero. Esatto, esatto. Poi, prima, Monica, parlavi anche di compiti di realtà. So che siete andati in visita di istruzione a Roma, se non sbaglio. C'è una Roma barocca, forse? Sì, la nostra prima uscita quest'anno siamo andati a Roma, la Roma barocca. E abbiamo poi trasformato la nostra uscita in un volantino scolastico. Ecco. Chi è che ha fatto il lavoro su Roma barocca? Tutti, però. Tutti quanti, va bene. Tutti, come sempre. Andiamo un attimo in ultima fila, va, per questa volta. A te tu ti chiami? Gaia. Gaia, perfetto. Vediamo invece il tuo lavoro. Io ho fatto il lavoro insieme al mio compagno lì davanti. Ah, ecco, aspetta, questa qui è una cosa importante. Quindi un lavoro, come si dice, collaborativo. Collaborativo. Cioè, che vuol dire? Ho fatto metà al lavoro, l'ho iniziato io, e l'altro metà al lavoro l'ha iniziato il mio compagno, poi abbiamo unito tutto, e sono usciti tutti questi monumenti. Sai, i più grandi dicono che si lavora in team, si lavora in gruppo, no? E in questo caso si è lavorato con un altro compagno, quindi un pezzettino per uno, avete poi dopo prodotto questa risorsa, che poi è una risorsa per apprendere, no? Quindi anche qua, ecco, vedo Fontana di Tre, queste foto però le avete prese da internet? Queste foto sì, e poi siamo andati in gita anche a vederle. Ecco, quindi avete riscontrato anche questa cosa dal vivo. Chi è il tuo compagno che ancora l'ha fatta? Lì davanti. Altrimenti, ecco, qui un altro lavoro, tu come ti chiami? Gianmaria. Ecco, questo qui invece è un lavoro, addirittura, ecco, qui vedo che è di educazione civica. Educazione civica, italiano, storia, inglese e arte. Quindi abbiamo... Fai vedere di che si tratta, praticamente qui abbiamo l'alimentazione. Sì, qui abbiamo messo la storia del Panto, qui ci sono i ristoranti intorno al Pantheon. Sì, che ha tradotto in inglese. Invece qui con la professoressa di arte, perché la guida ci ha spiegato le sculture di Bernini e Borromini, qui c'è la storia di Bernini e qui la fontana dei quattro fiumi, che è costruita. Sì. Invece è un aneddoto della vita. Sì. Invece qui c'è Borromini con la storia. Ecco. Invece qui c'è, abbiamo fatto una natura morta. E quindi qui il discorso dell'alimentazione, che rientra tra quelli dell'educazione civica. L'educazione civica, esatto. Esatto. Tutti hanno sul loro dispositivo questo tipo di percorso, svolto creativamente. Ognuno poi ha scelto la modalità che più era conveniale. Ecco, infatti qui vedo, invece te sei? Serena. Serena. Alza la luminosità, Serena. Ugualmente, ecco qui invece, salsicce alla rotonda. Ecco qui, abbiamo un altro tema. E di che cosa si trattava? Perché sei andato di... Sì, quando abbiamo fatto l'uscita a Roma, la guida ci ha spiegato questa storia di questa norcineria del malaffare, che questo marito e moglie facevano delle salsicce con degli umani. Ah, ecco. E poi abbiamo scritto la storia del Pantheon, come è fatto, che funziona adesso e la data di costruzione. E poi abbiamo fatto questo lavoro con l'italiano e l'inglese educazione civica. e poi abbiamo fatto anche questo lavoro con Arte, su Bernini e Borromini, che sempre la guida ci ha spiegato le loro strutture. Sì. E abbiamo messo anche le foto. Esatto, quindi anche te, quindi ognuno ha elaborato a suo modo gli stessi concetti e le stesse... Sì, i concetti sono stati elaborati. Esatto, quindi è un modo per fare in maniera interdisciplinare, collaborativa e attraverso il digitale lo studio, così e come vuole che si fa. Secondo programmazione. Esatto, secondo la programmazione. Qualcuno mi dice appunto questo tipo di lavoro, chi è che vuole rispondermi, se vi piace, se può essere utile, chi è che vuole rispondermi? Ha alzato la mano? No, Viola, Viola, scusami. Allora, questo lavoro secondo me è molto utile per utilizzare gli iPad, perché comunque nel futuro, anche tra qualche anno, non si utilizzerà più carta e penna. E basta, diciamo, non lo vogliamo per carità eliminare del tutto, però insomma il futuro aspetto, no? Ma dobbiamo essere capaci a fare una presentazione, un modello, perché sicuramente nel futuro ci servirà. Esattamente. Anche per il lavoro. Esattamente. Non so voi che dite. Benedetta, che ne dici? Sì, si imparava meglio, più velocemente, perché è tutto semplicizzato e si imparava tante cose. Tu riesci a memorizzare meglio queste cose quando usi l'iPad, per esempio? Sì, sì. Ecco, quindi trovi la differenza tra il fatto di studiare sul libro e invece magari integrarlo e unirci anche il discorso dell'iPad, giusto? Sì, sì. Ok, perfetto, va bene. Oppure tu hai alzato la mano? Sì, secondo me è anche un modo per imparare più creativo e più, diciamo, moderno ovviamente, perché carta e penna, comunque sì, è il metodo tradizionale che la maggior parte dei ragazzi usano, però poi quando si scoprono cose nuove è molto più divertente imparare. Esatto, e guardate, avete detto tutte cose molto importanti perché alcuni studiano questi professori, per esempio, come migliorare la didattica, l'insegnamento, però in questo caso abbiamo visto come nella pratica, in una classe, si possa svolgere l'attività didattica facendo apprendimento collaborativo e cooperativo, facendo compiti di realtà, utilizzando il digitale, ma senza mai dimenticare che il fattore centrale è l'insegnante, vedi che l'abbiamo detto in contemporanea, senza esserci messi d'accordo. Quindi a te, in conclusione, Monica, che cosa ci vuoi dire? Ma io sono felice che la classe risponda così positivamente, bisogna stabilire un rapporto di empatia, di rispetto reciproco, loro sanno che quello che fanno è un lavoro importante e hanno anche nelle loro mani, l'istituto ha impiegato risorse per permettere loro di lavorare in questo modo, quindi devono avere grande rispetto, grande serietà, però ecco, tutta questa creatività è un'esplosione di benessere anche, perché loro stanno poi bene in classe, sono impegnati a lavorare e non hanno tempo, diciamo così, per fare altro. Però, ecco, e insomma sappiamo nelle classi quanto sia importante la concentrazione, lo stare bene e il lavorare anche con piacere sugli argomenti che vengono proposti dai docenti. Monica, complimenti a te e in bocca al lupo per il tuo lavoro, ragazzi complimenti a voi e buono studio! Grazie a te! Ciao! Grazie a te! Abbiamo pensato ad una scuola un po' particolare, una scuola che ha degli ambienti particolari che loro rappresentano non soltanto attraverso la scrittura, quindi la descrizione degli ambienti, le azioni, la divisione in sequenze, tutti quegli esercizi che si fanno per creare un testo ma anche per rappresentarlo graficamente e quindi con l'aiuto della fantasia. Monica, quindi questi qui sono dei contenuti che comunque, voglio dire, è un metodo che tu applichi e che si può utilizzare anche per altre materie, per tutte le materie, quindi geografia, storia, religione, musica, arte... Certo, l'importante non è il contenuto in sé, ma è anche quello ovviamente, ma qualsiasi docente, qualsiasi disciplina può essere trattata in questa maniera, in questo modo. Quindi vediamo come nella pratica tu sei riuscita a fare, quindi fate prima brainstorming, ciao ragazzi, buongiorno, ragazzi, tutti e due, fate prima brainstorming, quindi partendo dalla lettura di quel testo che hai fatto vedere, loro discutono insieme... Certo, mettono insieme le idee... Le loro idee, ecco qui per esempio adesso sto a Corna, come ti chiami? Congio Francesco. Francesco, Francesco, questo qui che cos'è quindi? Un lavoro che... È un lavoro che abbiamo fatto grazie ad un testo, sviluppandolo da un testo che abbiamo in dotazione, e partendo dal testo noi abbiamo sviluppato una storia. Quindi inizialmente Monica che cosa... Abbiamo letto l'episodio sul testo di antologia, o abbiamo lavorato attraverso anche gli esercizi sul quaderno, che prima passiamo sempre alla parte, prima alla parte cartacea, che adesso non mostriamo, però c'è sempre prima quella parte, c'è la mia spiegazione a cui non si può rinunciare, c'è la parte dell'insegnante che deve insomma anche fare un po' da corcia, Motivare il ragazzo, e poi arriva la parte operativa, questa è la parte più operativa, la parte più creativa, che viene in seguito. Esatto, quindi la parte digitale è ultima ed è conseguenza di un'attività svolta in che va ad aumentare la motivazione del ragazzo, perché qui chiaramente può fare tante manovre che lo rendono anche indipendente, autonomo nello studio. Ad esempio, un po' Francesco, qualche operazione che tu fai che ti piace di più di tutto quanto? Ad esempio possiamo aumentare il disegno andando a prendere delle forme che sono più di 700, in una galleria, ecco, già a disposizione, ci sono varie categorie, ad esempio oggetti, animali e natura. Perfetto, puoi fare una ricerca? Dice, ma io voglio cercare, ecco, quindi? Ad esempio se noi volessimo cercare, non lo so, una casa, casa, siamo casa e ci danno tutte le opzioni. Ci sono le varie opzioni, tu ne scegli una e poi? Ad esempio ne scelgo questa e la posso mettere dove voglio. Ecco, quindi elabori la parte anche grafica e visiva, no? Con questa immagine, aggiungendo delle cose tue, personalizzando il lavoro. Sì. Benissimo. Infatti ecco la personalizzazione. Sì, abbiamo aumentato un disegno di Rob Consalves. È un autore, esatto, è un artista. E che cosa hai aggiunto qua? Abbiamo aggiunto dei gabbiani. Ecco. Che... E le ha scelte idee questi qua, quindi le ha inseriti, ecco, vedi, è un modo per diventare co-artista. Sì. Quindi per lavorare insieme a lui, però personalizzando il lavoro. Quindi c'è un lavoro di... bravo, bravo, ottimo, è un lavoro di personalizzazione, però hai parlato anche di realtà aumentata, nel lavoro letterario fatto sulle favole, tu ti chiami? Rebecca. Ecco, Rebecca, qui invece che cosa avete fatto praticamente su questo lavoro qua? Noi abbiamo fatto un, diciamo, un documento dove c'è la favola e la fiabba. Sì. Qui spiega la favola, che cos'è, invece qui la fiabba. Benissimo. Senti, ma... oh, scusami che tanto è rotto, però all'inizio c'è anche un video, si dice, di aumentato, giusto? Cioè avete fatto qualche cosa in più, cioè, voi vi siete ripresi. Sì, e la nostra prof, Monica Colpe, ci ha messo un leone e noi dobbiamo spaventarci, però non si sa quanto, non ci siamo spaventati. Vediamo, vediamo l'effetto finale. Ah, ecco, vedi, quindi... Questo leone compare in realtà aumentata attraverso un'app, poi fai sentire anche l'audio, comunque, insomma, è un po'... Ah, ecco, c'è anche l'audio. Ah, spaventatissimi siete! Ah, spaventatissimi siete! Ecco, quindi è un modo per... È un modo. Eh, fare anche un po'. Però, oltre a questo, bene, becca molto bene, però, altra attività che fate qua già addirittura prima, quella che viene chiamata gamification, cioè il fatto di apprendere, in qualche modo, anche giocando. Sì. E allora adesso andiamo a vedere qualche cosa che avete fatto, per esempio, che cosa vuol dire questo? Dunque, tu ti chiami? Miriam. Miriam, che cosa vuol dire fare dei giochi e cercare di studiare attraverso il gioco? Ad esempio, abbiamo fatto nomi, cose, città. Ecco, nomi, cose, città ci si gioca normalmente, diciamo. E invece in questo caso? Abbiamo creato delle caselle di testo, le abbiamo posizionate come nomi, cose, città. Sì. Abbiamo preso delle linee, le abbiamo collegate alle caselle di testo e poi abbiamo... Ecco, fammi vedere come si collega una linea, come si aggiunge una linea e si collega una casella di testo, un po' come abbiamo fatto prima, giusto? Sì. Ecco, andiamo... Cerca linea. Cerchiamo linea, eccolo. Tu lo selezioni, lo scegli. Sì. E lo devi collegare. Sì. Ecco, quindi c'è una manipolazione, no, di questi oggetti e c'è un apprendimento che è anche tattile, Monica. Quindi al di là del visivo e uditivo, come abbiamo visto prima, c'è anche quello tattile di apprendimento. Sì, decisamente. E in questo caso quindi tu puoi lì, per esempio, nomi concreti, puoi aggiungere nel box dei nomi concreti un nuovo nome. Per esempio, lettera F. Scrivo. Ecco, aggiungi farfalla e quindi puoi continuare il... Chiamiamolo il gioco, cioè... Sì. Ma lo fanno tutti quanti anche insieme? Tutti sempre, sì. Questo è un gioco che facciamo collaborativamente, a volte a squadra, a volte singolarmente. A volte c'è anche, insomma, una forma di valutazione, no, attraverso il gioco, perché il gioco viene seriamente svolto. Loro sono anche, ecco, abituati a questo. Esattamente, ci sono delle regole ben precise nel gioco. Esatto, ci sono regole precise. Ed è interessante perché comunque è un modo di lavorare senza appesantire. Senza appesantire, no, no, ma certamente. E parlavamo prima di apprendimento visivo, tattile, ma anche uditivo. Dunque, qui vedo, per esempio, tu come ti chiami? Diana. Dai, Diana, io la vedo, per esempio, un'iconcina che mi richiama all'audio. Allora, bisogna andare prima di tutto sul più. Poi dobbiamo andare su registra l'audio. Clicchiamo qua e possiamo registrare l'audio che vogliamo. Fai una prova, fai una prova. Cosa puoi dire? Lì, per esempio, c'è scritto Carlotta. Puoi anche dirlo, giusto il nome dei nomi propri? Sì, abbiamo già provato a spingere sull'icona. Prova a spingere sull'icona. Ok. Allora, vai su. Chiudi, ok. Alza il volume e ce la facciamo. Ecco, il volume è a basso, bisogna rialzarlo. Perfetto, adesso andiamo a sentirlo. Con AppPages ho creato una mappa concettuale di grammatica. Funziona come un gioco. Ho inserito anche il file vocale. La docente ci indica una lettera e noi dobbiamo inserirla nelle caselle di testo, come ad esempio nomi comuni, concreti, astratti. Un po' come si fa con nomi, cose e città, ma applicata alla forma morfologica. Ecco, quindi è un modo appunto anche per fare svolgere attività, diciamo, ludiche, che possono sembrare più ludiche, però applicate alla didattica e all'apprendimento. La tradizione e l'innovazione. Eh beh, queste sono le due chiavi. Secondo me, sì. Ciò che si fa e si faceva sempre e da sempre deve essere tradotto anche con una chiave moderna, accessibile ai ragazzi di oggi. E a voi piace questo tipo di studio da fare? Che dite? Sì, sì. Allora, bravissimi in questo, eh. Ebbè, ma lo vedo, fanno cose molto belle. Come dite il venerdì alla sesta ora, quando bisogna andare via e dovete chiudere? Che dite? Io rimango qui e porto il mio cane. Lui vuole rimanere qui. Vuole portare il gagnoletto. No, è finita l'ora? Sì ragazzi, sì, è venerdì, è finita l'ora. E tu invece ti chiami? Mauro Bondone. Mauro, Mauro invece te qui che cosa hai fatto? Qui abbiamo fatto questo qui al quinto episodio. Abbiamo scritto la lavagna e dopo l'abbiamo riportato sul quaderno. Praticamente l'abbiamo intitolato la polvere di stelle di autostima. Di autostima? Sì, che praticamente quando non riesce a fare una cosa, questa polvere di stelle di autostima è arrivata al cielo e... E ti aiuta? Sì, per fare una cosa. In questa scuola magica, che noi abbiamo immaginato, abbiamo, ecco, i ragazzi hanno pensato di aiutare i compagni in questo modo. Ecco, vedo... Esatto. Ci sono i vari episodi illustrati, questo è sempre tutto un disegno che ha svolto lui. Vedete, ogni elemento può essere mosso, cambiato, questi sono tutti elementi creati dal ragazzo, anche dalla fantasia del ragazzo, che hanno un senso, un'attinenza con il testo sempre, ovviamente. Quindi è una forma espressiva che però viene applicata al genere letterario della favola. Esatto. Può essere replicato con qualsiasi tipo di disciplina. Con qualsiasi tipo di disciplina. Questa qui sarebbe la scuola di scrittura. Questa è sempre la scuola di scrittura, che mi sembra veramente un bel lavoro. Bene, ragazzi, complimenti e buono studio a tutti quanti. Grazie. Ciao. Ciao.